Hanno attraversato questa mattina il confine tra Siria e Libano gli ispettori delle Nazioni Unite diretti all'aeroporto di Beirut. Si conclude qui la delicata missione dell'ONU incaricata di raccogliere elementi che in realtà confermeranno ciò che oramai sembra accertato, ossia che lo scorso 21 agosto alla periferia di Damasco sono state usate armi chimiche. Con gli americani che dicono di avere le prove documentate che ad uccidere quasi 1500 persone di cui un terzo bambini sia stato il regime di Damasco, i risultati del rapporto ONU rischiano di avere ben poco valore e soprattutto di arrivare fuori tempo massimo. Un primo rapporto scritto degli ispettori verrà recapitato già oggi al Palazzo di Vetro, ma il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon ha confermato che per avere i risultati dei test sui campioni prelevati in Siria ci vorranno almeno due settimane. In mezzo ci sarà il G20 di San Pietroburgo, in casa quindi dell'alleato storico di Damasco. E questo potrebbe significare che l'America prenderà altro tempo nonostante una sesta nave da guerra sia stata inviata nelle acque del Mediterraneo. Se Barack Obama ha confermato ieri di essere pronto ad un attacco limitato e definito contro il regime di Damasco per una strage di civili che ha definito una sfida lanciata al mondo ha anche chiarito che nessuna decisione è stata ancora presa. E certo Washington non potrà ignorare le parole di Vladimir Putin che questa mattina ha invitato gli Stati Uniti a presentare al Consiglio di Sicurezza dell'ONU le eventuali prove di un attacco chimico. Sorpreso del voto contrario ma dettato dal buonsenso da parte del Parlamento britannico, il presidente russo ha definito insensate le accuse rivolte a Damasco. Il premio Nobel per la pace Barack Obama ha aggiunto pensi alle future vittime in Siria. A mettere in guardia sulle conseguenze di una guerra è anche il presidente venezuelano Nicolas Maduro. Infetterebbe l'Europa, dice con il terrorismo, sarebbe una follia armare gruppi di Al-Qaeda per rimuovere il regime siriano. E poco fa ha parlato anche il nostro ministro della difesa Mario Mauro. L'ipotesi di un intervento in Siria deve essere considerata una sorta di segnale alla dittatura di Assad e non una guerra vera e propria, ha detto, mettendo comunque in evidenza i rischi di uno scenario che può essere devastante.